Ciao a tutti ragazzi, qui è OverPro e oggi siamo nel nuovo aggiornamento canale che io di solito in queste settimane sto facendo 50.000 settimane perché sto parlando così veloce Vabbè, siamo nel nuovo aggiornamento canale Vi volevo dire, come ogni frase che dico negli altri aggiornamenti canali vi volevo dire che ho artigianato questa cosa che è un gambo per tenere il telefono o la fotocamera fatto da me e l'ho usato nello scorso video del papacopering che è andato di cacca Ah, e dopo aver editato lo scorso video, il video del pacco opening, mi ha sbloccato due pacchetti e ora vi mando lo spezzone Piaciuto? Eh sì? Sapete cosa ho trovato? Avete già visto cosa ho trovato? Beh sì, ho trovato solo un... Ai Dragon Axe! 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 Ah! 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 Volevo dire che ho iniziato anche la scuola quindi... Nooo! Ho iniziato la scuola e vi manderò anche gli spezzoni di oggi Che lo manderò domani Che lo editerò domani Il video di oggi Non questo Quello dopo Dove praticamente Ci sarà una sorpresa Qui da Overpro è tutto Iscrivetevi Mettete commenti belli Sempre E noi ci vediamo Ad un prossimo video Ok Vediamo un attimo Che cosa c'è qui Vediamo Che Megagnum Vediamo questo Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Apriamolo 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 Doppi carte Una E L'altra Vediamo un po' Grazie a tutti!